Respinta con 20 voti contrari, 10 favorevoli e una stensione, una proposta di risoluzione sulla riorganizzazione del servizio di emergenza urgenza territoriale ospedaliero presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia. La proposta di risoluzione prevedeva una serie di correttivi e novità nell'ottica di proporre soluzioni concrete alla diminuzione di medici e personale nei pronto soccorso a fronte dell'aumento degli accessi e specializzazioni in emergenza urgenza che vanno deserte, come spiegato dal primo firmatario Diego Petrucci durante l'illustrazione all'aula. Tra i punti principali dell'atto la richiesta di mettere in sicurezza dalle aggressioni il personale del pronto soccorso prevedendo una guardia armata all'interno delle strutture, un supporto psicologico costante agli operatori, l'esenzione per gli over 60 dai turni di guardia e reperibilità notturna e incentivi agli studenti che si iscrivono alle specializzazioni in emergenza urgenza. Fratelli d'Italia critica fortemente le politiche della giunta in ambito soprattutto sanitario. Ieri abbiamo chiesto le dimissioni dell'assessore Bezzini per tutta una serie di situazioni che stanno avvenendo nella sanità toscana ma non ci limitiamo alla critica. Noi abbiamo l'ambizione di governare questa regione molto presto e quindi portiamo delle proposte di risoluzione dei problemi come per esempio nell'ambito dell'emergenza urgenza che è sicuramente l'ambito più critico che c'è in questo momento. Noi riteniamo che alcune cose possono essere migliorate immediatamente. Pensiamo per esempio che si debba aumentare i posti letto nei pronto soccorsi perché un conto è se una persona una volta ogni tanto sta uno, due, tre, tre giorni e mezzo in una barella in un corridoio e già non andrebbe bene. Ma se tutti i giorni ci sono persone che stanno 24, 36, 48 ore barellate nei corridoi dei pronto soccorsi senza acqua, senza cibo perché non è previsto quel tipo di somministrazione per chi sta lì nel pronto soccorso evidentemente bisogna cambiare la struttura, bisogna aumentare i posti letto nei pronto soccorsi. Noi pensiamo che si debbano aumentare gli ambulatori per codici bianchi nei pronto soccorsi. Una percentuale importante di accessi ai pronto soccorso è per codici bianchi comunque per situazioni di livello molto basso, di intensità bassa. Dobbiamo quindi differenziare la prestazione sanitaria per chi arriva in fin di vita e per chi arriva con un dito da steccare, che comunque ha bisogno di avere una prestazione sanitaria. Noi pensiamo che nella proposta di risoluzione che il Fratelli d'Italia ha presentato oggi in Aula ci siano tante risposte all'emergenza della sanità toscana, all'emergenza della crisi dei pronto soccorsi. Purtroppo la maggioranza, parte della maggioranza, ha votato contro. Abbiamo apprezzato il voto d'astenzione Italia Viva. Ci dispiace che il Partito Democratico voglia sempre mettersi una sorta di benda davanti agli occhi e bocciare le proposte che vengono dall'opposizione. Noi continueremo a fare opposizione non soltanto criticando ma facendo proposte concrete. Questa mattina il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di risoluzione appunto per quanto riguarda i pronti soccorsi che sicuramente in questo momento è un argomento caldo perché sappiamo che è un problema direi nazionale, cioè non direi io ma si vede dai giornali perché i medici che lavorano nei pronti soccorsi sono obiettivamente pochi, c'è una carenza su tutto il suolo nazionale ed è un lavoro obiettivamente difficile che io ho fatto fino a due anni e mezzo fa quindi che conosco abbastanza bene. La proposta di risoluzione che ha fatto il gruppo di Fratelli d'Italia devo dire la verità che è una proposta estremamente articolata ed è una cosa positiva che un gruppo consigliare di opposizione porti anche delle proposte fattive. Noi come gruppo del PD abbiamo proposto di portarla in commissione perché ovviamente alcune delle cose che sono scritte sono di pertinenza nazionale, alcune riguardano non soltanto il Ministero della Sanità ma addirittura il Ministero dell'Istruzione e altre invece sono cose che già esistono tipo i dipartimenti di emergenza e urgenza che già esistono e all'interno di questi già sono integrati i medici del centro che lavorano sul territorio e i medici che lavorano dentro il pronto soccorso. Un lavoro difficile come dicevo perché spesso sottoposto a burnout sono quei posti dove la decisione deve essere istantanea e molto spesso da quella decisione può dipendere la vita o la morte di una persona. È chiaro che parlare di pronto soccorsi non è così semplice e secondo me non si può risolvere nell'arco di una discussione consigliare perché gli argomenti da affrontare sono tanti e ci sono anche tanti argomenti che sono interconnessi. Sicuramente la medicina del territorio, le case di comunità una volta che lavoreranno e quindi potranno svolgere una serie di servizi tipo leografie, tante cose potremmo diciamo evitare quello che si chiama boarding e overcrowding dei pronto soccorsi. La Regione Toscana di per sé ha messo in atto e sta mettendo in atto devo dire ormai da tanti anni alcune misure per esempio le borse di specializzazione che la Regione finanzia da diversi anni in più rispetto a quelle che erano quelle ministeriali e nazionali ma questo non è non è sufficiente in questo momento di carenza di medici. Tra l'altro in questo momento c'è una particolare attenzione secondo me sta cambiando un pochino anche la filosofia di vita c'è una particolare attenzione anche a quello che è la qualità della vita e spesso i medici di pronto soccorso fanno una vita faticosa, notti, festivi, turni spesso massacranti di 12 ore e qualche volta anche un po' di più e sempre con questo carico di pazienti spesso gravi quindi sono medici che possano andare incontro a problemi di burnout. La nostra proposta è di mandarla in commissione magari con audizioni anche perché la Giunta regionale sta mettendo in atto delle azioni che sarebbe bene capire quali sono e anche parlare con quelli che sono i direttori di dipartimenti di emergenza e urgenza che conoscono chiaramente il problema. Non è stata accettata e quindi noi abbiamo bocciato la proposta di risoluzione perché alcune cose erano sicuramente accettabili, altre meno, altre erano magari da rivedere e quindi la proposta non è stata accettata ma non perché non apprezziamo il lavoro che è stato fatto ma perché all'interno ci sono cose, per esempio parlavano dei letti di osservazione breve nei pronto soccorsi toscani esistono da tanto tempo, in tutti i pronto soccorsi sicuramente sgravano un attimo il paziente di stare sulla barella però purtroppo non sono sufficienti. Poi ovviamente a questo dobbiamo sempre aggiungerci la sostenibilità e il costo perché comunque il nostro finanziamento sulla sanità non è sufficiente e andrebbe alzato ma questo a livello nazionale chiaramente. È stata bocciata questa proposta di risoluzione dove noi avevamo inserito degli emendamenti di buonsenso sostanzialmente. Le motivazioni della bocciatura sono risibili, sono politiche. Di fatto noi per quanto mi riguarda nel mio intervento ho voluto mettere all'attenzione dell'Aula l'attuale situazione critica in cui versa l'emergenza urgenza, sia l'emergenza urgenza ospedaliera, quindi il pronto soccorso, sia l'emergenza urgenza territoriale, cioè come la delibera 1425 e 1424, cioè quella sul 118 e sulla continuità assistenziale, siano per ora fallimentari. È ovvio che uno può richiamare il fatto che la medicina territoriale deve con le case di comunità, gli ospedali di comunità, essere ancora implementata. Però se non si aumenta gli operatori, se non si cerca di fare da filtro, come un emendamento che abbiamo voluto fare noi al pronto soccorso, che quindi fino a che non ci sia una medicina territoriale che fa da filtro mettere un dipartimento ambulatoriale che intercetti i codici 4 e i codici 5, cioè quelli non urgenti e in urgenza diciamo codici bianchi, automaticamente avremo sempre una situazione drammatica perché il collo di bottiglia del pronto soccorso è evidente. Questo determina un burnout sugli operatori perché sono pochi, perché sono sotto pressione. Non a caso la Corte di Cassazione ha determinato a causa dell'azienda un evento di infarto subito da un medico e quindi ovviamente questa situazione è arrivata al collasso. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione, primo firmatario Andrea Pieroni, che impegna la Giunta regionale a valutare l'opportunità di destinare ulteriori risorse alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico al fine di programmare i relativi interventi per le prossime annualità e far fronte conseguentemente alle sopravvenute necessità degli enti locali. La mozione era collegata all'interrogazione sul documento operativo difesa del suolo per l'anno 2023 presentata dal consigliere Alessandro Capecchi, a cui è risposto l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni, che ha spiegato che durante il processo di selezione molti interventi proposti di competenza dei comuni sono stati scartati perché privi del nesso di casualità con un evento emergenziale oppure con altri requisiti chiesti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che è evidente che le risorse per la difesa del suolo non siano mai sufficienti in tempi di cambiamenti climatici. Monni ha poi concluso che verrà data priorità al completamento degli interventi già finanziati in corso, destinando agli stessi le risorse necessarie per coprire i maggiori costi delle materie prime. Dal 2016 le competenze in materia di sicurezza idraulica e idrogeologica, come sappiamo, sono passate dalle province alla regione, quindi la regione dal 2016 ha iniziato a investire per garantire gli interventi utili, necessari e talvolta urgenti in materia di difesa del suolo. Sappiamo bene come la difesa del suolo sia un elemento qualificante e fondamentale delle politiche per il territorio, in quanto la difesa del suolo significa garantire la sicurezza delle popolazioni, delle comunità, significa garantire la salvaguardia dell'ambiente e anche il paesaggio, il bel paesaggio della Toscana significa anche garantire condizioni utili allo sviluppo economico, produttivo, all'insediamento di nuove attività. Quindi su questo ambito non dobbiamo abbassare la guardia, noi abbiamo uno strumento prezioso che è il cosiddetto DOZ, il documento operativo per la difesa del suolo, che ogni anno raccoglie i progetti che provengano non solo i progetti della regione stessa, non solo i progetti dei consorsi di bonifica, ma anche i progetti delle province, dei comuni e soprattutto dei comuni più piccoli, che spesso hanno territori grandi, talvolta molto grandi, dove si verificano situazioni di degrado, di frane, di cedimenti del territorio. Questi comuni hanno l'unica opportunità di vedere finanziati i propri progetti attraverso questo strumento, che deve essere annualmente sostenuto e alimentato. Quindi noi chiediamo che anche per il 2023 e per gli anni prossimi la regione mantenga quel livello di investimenti sul versante della difesa del suolo che hanno consentito fino ad oggi appunto di finanziare e sostenere progetti ed interventi soprattutto dei comuni più piccoli. Allora, la risposta dell'assessore Moni è stata parziale, ma ci ha dato molti numeri che hanno certificato due cose. Il primo è che la regione toscana nel 2023 non è riuscita a fare il DOZ, cioè il documento operativo di difesa del suolo, quello cioè all'interno del quale vanno tutte le opere di mitigazione idraulica e di lotta al dissesto idrogeologico, ma la Giunta sta procedendo per stralci via via che riesce a trovare un po' di risorse, come l'ultimo stralcio del febbraio 2023 in relazione ai fondi del PNRR. L'altra cosa, e cioè la Giunta non ha mandato come tutti gli anni alla fine del 2022 la lettera agli enti locali, proprio perché le risorse non sono troppo sufficienti, per raccogliere le indicazioni da parte del territorio sui provvedimenti e sugli interventi, sui progetti che reputano assolutamente necessari per mettere in sicurezza il territorio. Da questo punto di vista, nella collegata mozione del PD abbiamo ritenuto opportuno di votare a favore perché chiede più risorse, particolare che lo faccia la forza di maggioranza rivolta alla Giunta, ma questo non toglie che il problema esista perché va affrontato il dissesto idrogeologico di una regione che ha circa l'80% di superficie montana e collinare. Parzialmente siamo migliorati perché stanno aumentando i fenomeni di grande concentrazione di masse d'acqua in periodi sempre più ristretti e contemporaneamente con lo spopolamento della collina e della montagna si assiste a interi pezzi di territorio che non sono più curati, basta guardare le condizioni dei nostri boschi. Il che vuol dire evidentemente che dobbiamo essere più attenti a opere di prevenzione, dobbiamo trasformare il ruolo di intervento dei consorsi di bonifica, dobbiamo mettere i comuni, anche quelli più piccoli, in condizione di poter concorrere ai fondi del PNRR. Non a caso nell'ultima delibera di Giunta c'è un allegato tecnico molto complesso che chiede ai piccoli comuni tantissimi adempimenti che in tanti casi non saranno in grado di fare, a meno che non intervenga la regione magari insieme a consorsi e magari insieme alle province dove è possibile per sostenere gli uffici di progettazione dei comuni. Presentata a Palazzo del Pegaso è la diciottesima edizione di Logradireste un goccio di Vinsanto, curata dal comune di Torrita di Siena e dalla Proloco di Montefollonico, che si svolge sabato 15 e domenica 16 aprile a Torrita di Siena, protagonista della manifestazione Il Vinsanto, passito che è un fiore all'occhiello della tradizione enogastronomica toscana e che nella tradizione contadina veniva offerto a chi giungeva in visita. Due giornate che vedranno il borgo animato dalle tante attività organizzate, dalle degustazioni alle visite guidate, dalla passeggiata sul sentiero del Vinsanto al mercato di Valdichiana Eating. La Toscana è terra di arte, di storia, di cultura, di bellezza, di buon cibo, di ottimo vino e in questo caso direi di ottimo Vinsanto. Ringrazio l'amministrazione comunale di Torrita di Siena perché questo evento rappresenta un po' anche quella è la nostra idea di Toscana. Montefollonico il 15 e il 16 di aprile sarà un po' un luogo in cui raccontare la qualità delle nostre produzioni che sono frutto del lavoro dell'uomo perché senza questo lavoro quotidiano tutto questo non sarebbe possibile. È un modo per portare a conoscere quanta qualità, quanta bontà, quanta bellezza c'è nei nostri territori. Il borgo del Vinsanto, o meglio, lo che ha il resto è un goccio di Vinsanto, è giunto la diciottesima edizione, ha saltato solamente per causa Covid e le due edizioni precedenti a questa ma rinnova l'appuntamento con la degustazione del Vinsanto e con la visita al borgo di Montefollonico che è bandiera arancione ed è un piccolo borgo arroccato su un crinale che fra la Val Dolce e la Val di Chiana quindi con degli scorci paisaggistici, inutile dirlo, fantastici e che però al suo interno ha dei custodi di questo di cuore che è il Vinsanto che da anni e anni si tramanda una tradizione e in questo periodo dell'aprile del 2023 ci sarà questa gara con la sediazione di un premio molto ambito perché appunto 18 edizioni e quest'anno hanno 66 Vinsanti in gara quindi molto sentito e vale la pena passare a Montefollonico e quindi c'è il 16 aprile perché c'era una bellissima anche un'esposizione di agricoltori e produttori locali di filiera corta quindi che imprezioneranno l'evento del Vinsanto. Quest'anno la festa del Vinsanto si svolge ad aprile e a metà aprile, solitamente era stata fatta gli altri anni a dicembre e quest'anno per motivi organizzativi è stata spostata. I Vinsanti sono tutti Vinsanti toscani, la maggior parte sono della provincia di Siena, poi abbiamo anche provincia di Arezzo, Pistoia, Firenze. Noi raccogliamo Vinsanti solo amatoriali, sono Vinsanti che vengono fatti, praticamente sono Vinsanti casalinghi che singoli produttori ci inviano oppure si vanno noi a prendere direttamente nel luogo di produzione. Un Vinsanto che viene ormai da 18 anni perché quest'anno è la diciottesima edizione del Borgo del Vinsanto viene da Ancona, dalla provincia di Ancona e da Osimo, è un signore che era un residente nella zona nostra e che tutti gli anni ha saputo di questa festa e tutti gli anni ci invia questo prodotto. Sono Vinsanti dolci, Vinsanti secchi, la giuria che fa la degustazione di questi prodotti stabilisce a seconda del gusto in quale categoria vanno perché non tutti i produttori indicano se è dolce o secco. Sono Vinsanti più o meno del periodo 2010-2020 perché c'è un certo disciplinare anche se non è scritto per i Vinsanti amatoriali che devono avere un minimo di invecchiamento nel caratello. Normalmente si dice tre anni per ottenere un prodotto buono, però ci sono anche Vinsanti di 5, 6, 7, 10 anni. Le particolarità sono molte a partire dal paesaggio. Monte Follonico che è la frazione di Torrita di Siena è una località situata un po' più in alto e bandiera arancione per cui ha anche delle caratteristiche culturali nonché paesaggistiche molto belle. In più si unisce all'eccellenza di questo prodotto, il Vinsanto, dove ci sono veramente esperti di produzione che fanno degustare a chi verrà insieme ad altri prodotti della Val di Chiana e della Val d'Orcia. Infatti ci sarà anche la mostra a mercato di degustazione con Val di Chiana Itin. E quindi è un'altra occasione per scoprire il territorio con sfaccettature diverse. Nell'ambito delle due giornate sono organizzati molti eventi, passeggiate naturalistiche e la possibilità di visitare le chiese presenti e tutto anche il patrimonio culturale che è presente a Monte Follonico. Quindi è un invito veramente a tutte le persone di non solo di scoprire un'eccellenza quale il Vinsanto, ma anche di scoprire nuovamente il territorio sotto altra forma unitamente a tutte le altre eccellenze.